Da Vignola qui a Modena per fare comunque metano, da quanto tempo in fila e perché è venuto fino qui? Da circa un'ora ed è questo perché è l'unico distributore di metano che mantiene i prezzi ancora a un livello civile. A Vignola non è così? No, a Vignola costa 2 euro e qua in zona questo è l'unico distributore di metano, come avete visto, che può permettersi di avere gente che fa un'ora e mezza di coda. E con lei cosa pensa di questi rincari? Siamo alla follia. Per me è una follia, non capisco e non capisco perché ci sono distributori che possono permettersi di mantenere questo prezzo e altri che arrivano a 3-4 euro. Ce ne sono alcuni anche in provincia di Modena già oltre 3 euro. A che ora chiude lo sa? A 12 e mezza, spero di farcela. Lei da dove viene? Io vengo da Casalicchio di Reno perché in zona da noi costa 3 euro, 3 euro e 50, anche 4 euro. Quindi vale il viaggio. Abbiamo visto che c'è gente che fa anche un'ora di coda e viene anche da fuori in Modena. Da ottobre che andiamo avanti così, riusciamo ad avere questi prezzi concorrenziali perché noi come gruppo Modena Gas siamo quelli che forniamo gas quasi in tutta Italia. Ecco, quindi voi ancora riuscite? Noi riusciamo a mantenere questo prezzo proprio perché è per l'appunto che riusciamo a fare noi un prezzo bassissimo, insomma, per soddisfare il cliente. Questa cosa potrà andare avanti, secondo lei, mantenere questo prezzo? Noi riusciamo a mantenere questo prezzo fino a ottobre di quest'anno e poi si vedrà. La gente cosa le dice? Niente, alcuni mi ringraziano, alcuni, insomma, io capisco che sono un po' nervosi, sono in fila. Poi quando vengono lì sotto, insomma, sono un po' agitati e quindi in questo caso qua mi portano pure un po'. Allora, che cosa pensate di questa roba che bisogna fare un'ora di coda per riuscire ad avere il gas a un prezzo decente? È abbastanza inquietante, però hanno aumentato tutto e già questo è molto preoccupante, molto, molto, molto preoccupante. Addirittura so che adesso a Ferrara il metano va a tre euro e mazzo, quindi va bene, facciamo un po' di fila, però non si può triplicare così, dalla sera alla mattina, bisogna che lo Stato, il Governo faccia qualcosa. Piegabilmente a volte non si capisce perché ci sia questa netta differenza del costo del gas naturale e quindi è chiaro che la gente cerca un posto dove costa meno. Io vengo da Bologna, fin qua, a Bologna non si trova niente a meno di due euro, addirittura tre euro e cinquanta, quattro euro e cinquanta nei distributori Agip ieri sera. Lei la macchina la usa molto per lavoro, quanto gli dura adesso un pieno? Io con un pieno faccio quattrocentocinquanta chilometri. Quindi quanti giorni? Quindi a una settimana, io tutte le settimane devo comunque per lavoro fare carburante. Oltre a avere i prezzi sicuramente concorrenziali la persona è anche squisita, il gestore. Lei cosa pensa di questi rincari che non frenano? C'è poco da dire, finché ci sarà questa guerra non lo so come andrà a finire, onestamente. Preoccupato? Sì, abbastanza. E dalle dieci che siamo in fila, lei se guarda dietro, quelle persone lì sono arrivate molto dopo di me. Perché? Perché qui purtroppo troviamo il gas meno caro. Non so il perché sia il meno caro di tutti, questo non mi faccio neanche il problema. Il problema è che come si dice, su Facebook si leggono tante cose. È lo Stato secondo me che ci sta prendendo in giro. Diamo la coppa alla Russia, la Russia è vera che è in guerra con l'altra nazione, eccetera, eccetera. Ma io so che il tot per cento viene, per esempio, il gasolo viene dai paesi arabi, paesi africani. Cosa c'entra? La Russia con l'Ucraina. È quello che mi chiedo io. Cosa c'entra? La Russia con l'Ucraina. Tra l'altro, guardando oggi anche sui giornali, eccetera, lui dice no, no, è colpa dell'Italia, non è colpa della Russia. Se il diesel, eccetera, è aumentato tanto. È uno schifo, guardate, è uno schifo veramente. Perché un uomo come me, che faccio la guardia giurata di notte, che guadagna mille euro a mese e deve mettere, quando prima il metano io pagavo, la bellezza di 24-25 euro, in un'altra bomba ne spendo 55, cioè il doppio, per me è uno schifo. Vivo a Finale Emilia, tra l'altro, a 50 chilometri da qua e vengo qua a fare benzina perché è il meno caro, anche se ne spendo 2-3 per ritornare a casa, ma a meno non ne pago 30 in più. Grazie a tutti.